ciao amici oggi è il giorno in cui partirò per una gara amichevole e è venerdì queste sono le condizioni dice tutta la roba io ho anche lo zaino qua sto aspettando una mia compagna che vengo a prendere per poi andare a prendere il pulmino insieme e oggi è una bellissima giornata fattissimo ore di caldo ho dolore di partire perché voglio arrivare a rimini per poi andare anche al mare quando avremo finito la gara è una gara amichevole per una ragazza di rimini che è deciduta per una malattia e quindi hanno organizzato questa gara che andremo a fare tutti insieme io mi sono ripresa da poco da un infortuna alla spalla quindi speriamo vada bene io mi sento abbastanza pronta però non si sa mai comunque noi sempre cariche a farle gare al meglio possibile fate conto che dobbiamo stare lì a rimini tipo 12 parla tre giorni al massimo e io ho la valigia che mi scoppia cioè il borsone pieno più questo zaino che sarebbe per poi andare al mare la sacca per gli allenamenti una borsina frigo e il cuscino per il collo per il viaggio ma vi giuro cioè mi sa che sono l'unica ad essere così e sto salendo in camera ho già posato le valizie tutte adesso ve la faccio vedere un pochetto e siamo già andati a cena abbiamo fatto un girettino sulla spiaggia è stato molto molto carino adesso l'unica cosa è trovare la camera però se mi sensibilmente giusto è questa sono brava qua ci sono io vabbè questa è la doccia questo pezzo mamma mia è inguardabile e poi questa qua è la parte del letto siamo io e una mia compagna che adesso dobbiamo anche sistemare tutte le nostre cose insomma comunque niente di che anche perché ci dobbiamo stare due notti siamo a rimini abbiamo preso un hotel così a caso tanto per starci solamente a dormire tanto poi il bello sarà il mare dopo la gara e anche il giorno dopo la gara in pratica si svolgerà in questo modo domani noi ce l'avremo il pomeriggio è una gara di squadre poi se ci classifichiamo il giorno dopo cioè la domenica la facciamo individuali ovvero chi si classifica a qualsiasi attrezzo e vedremo domani come andrà la gara speriamo bene la cosa bella di gareggiare il pomeriggio è che comunque la mattina puoi abbastanza dormire e riposarti un pochetto di più invece di prepararti subito e di furia e fretta così magari facciamo tutte le cose belle con calma e poi alle 4 e mezza partiamo e andiamo in gara io intanto mi vado a rilassare sul letto perché sono abbastanza stanca e poi quando arrivano altri miei compagni ci prepariamo insieme e poi andiamo a dormire chiacchiere adesso mi tolgo le scarpe e volo sul letto stiamo scendendo per far colazione e io sono letteralmente in pigiama e poi ci si sono messe le ciabatte a far l'amore è cominciato a far l'amore è cominciato prima della gara noi andiamo al mare siamo arrivati in spiaggia sono in costume ma vi giuro fa un caldo si muore sembra estate pura invece siamo solamente a giugno cioè ancora a giugno e niente i miei compagni hanno fatto il bagno io ancora no perché prima della gara non voglio stancarmi troppo e poi già che sono al mare forse mi stancherò un bel po' però ci sono dettagli visto che è una mesevole nella gara importante fa niente anche se ci tengo abbastanza qua siamo arrivati in cima mi bagnerò un po' i piedi e basta non vedo l'ora inizio proprio l'estate piena cioè ci alleniamo sempre e poi il weekend torna a Livorno a fare il bagno perché mi manca tantissimo ve lo giuro cioè proprio andare dopo l'allenamento al mare è bellissimo oppure anche in piscina perché a me piacciono anche le piscine quindi vedo l'ora di l'estate così mi abbronzo anche non sono bianca cadaverica come una mozzarella siamo andati a pranzo infatti anche appena finito di pranzare ho mangiato una bella pasta all'autunno e poi delle zucchine gratinate e adesso devo andarmi a preparare per la gara perché sono ancora vestita a pomare camera dolce camera mi sa che mi rilasso qualche minuto e poi inizio è arrivato il momento di prepararmi sia trucco che capelli faccio trucco capelli e poi inizio a vestirmi niente da fare non ce l'ho fatta ho fatto una semplicissima crocchia con le treccine perché era troppo complicato ho poco tempo e dono tutta la giornata per farlo quindi ho optato per questo a presto 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Al secondo posto, con 46,950, Società Estate 83, Nociceno Aonora. Grazie. Adesso andiamo subito a fare la doccia, che è il momento di levarmi il body, da oggi alle due e mezza. Mi sa che è arrivato proprio il momento. Doccia fatta come si può ben vedere, infatti ho anche tutti gli occhi impiastrati. Vabbè, poi sono bagnata in accappatoio. Scusate, in asciugamano. Guardate, ti aiuto. Quindi adesso vado a struccarmi meglio e ad asciugarmi i capelli con questo cono. che non asciuga niente, spoiler. E' il ritardo. Anche questa festa è finita domani. Quindi ho le finali ad attrezzo e sono passata a trave e a parallela. Non so neanche io come. Adesso entro in camera. Giuro, sono stanca morta. Dicevo, sono stanca morta. E in più devo anche mettere a posto la mia roba perché, vi giuro, c'è un casino allucinante. Ma pazzesco. Cioè, volete vedere? Io e la mia compagna siamo molto molto disordinata, se non l'aveste capito. Io adesso vado a letto perché sono stanca morta, vi giuro. E domani devo svegliare prestissimo. Quindi vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video. E spero che questo video vi sia piaciuto. Che è stato un po' la mia gara, un po' il mio vlog. Quindi possiamo sapere nei commenti se questi tipi di video vi piacciono. Così anche ad altre gare ve lo faccio. Tanti baci. Ciao. 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 Ciao.